Arrivano i nostri ospiti, ho capito 18 e 15, io mi taccio e poi riprendo. Allora, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questo nostro Open Day. Io sono Mauro Cavallone, sono il direttore del corso. Con me c'è la dottoressa Erika Morali, che è la coordinatrice del Master da tanti anni. E questa sera insieme, Erika e io, gli studenti che parteciperanno, i docenti, iniziamo a darvi alcune informazioni di questo Master per avere un'idea di come è nato, come si è sviluppato e qual è la sua funzione per chi si avvicina. Quando ho pensato a questo Master, e chiedo scusa a chi mi ha già sentito al telefono, a un ricevimento studenti, Skype o di presenza, piuttosto che nella precedente edizione che abbiamo fatto prima dell'estate, Quando ho pensato a questo Master, ho pensato che fosse dedicato sì a quelli che amavano il marketing, la centralità del cliente, l'internazionalizzazione, ma ai tempi, 17, ma la verità è 19 anni fa, è perché c'era un solo corso di marketing all'interno del corso di economia. E quindi avevo pensato di dedicare a chi fosse già vicino al marketing questo corso. Il posizionamento del Master ci porta oggi a avere circa il 75% degli iscritti che provengono da lauree in scienze umanistiche, lettere, piuttosto che lingue, mediazione culturale. Abbiamo un 10% che viene da economia, un 10% che viene da ingegneria e poi un 5% da materie del tutto diverse, dalla fisica all'architettura e così via. Quello che non è cambiato in questi 19 anni, di cui 17 come Master di primo livello, è la filosofia che noi vogliamo mettere in atto, cioè mettere in grado chi frequenterà il nostro corso, in un anno, con 410 ore di lezione, con 410 ore di stage o di field project, di sapere che cos'è e come si fa il marketing in azienda. Seguendo alcune linee guida, sapere che cos'è è la parte teorica. Non puoi fare ciò che non conosci e quindi una parte delle nostre lezioni riguarda l'aspetto delle teorie, quelle da cui è nato il marketing a quelle che lo alimentano oggi col mondo dei social e dei digital. Come si fa? Cos'è e come si fa? Perché l'importante quando si va in azienda è mettere a disposizione le competenze teoriche e pratiche. E allora ecco che lo stage, ecco che il field project vuole essere uno strumento per iniziare a mettere in pratica quello che si è appreso. E questo avviene secondo alcuni livelli. Il primo livello è quello legato ai tre passi che si susseguono all'interno del corso. Se uno è laureato alla magistrale in marketing o se non ha mai fatto marketing nella sua laurea triennale, noi partiamo dallo stesso concetto, l'ABC, e si chiama allineamento. La prima parte, copre circa il 40% del corso, è l'allineamento. Ci sono materie come, lo vedremo meglio dopo, marketing, business English, economia internazionale, comunicazione, storia della pubblicità. Perché? Perché per poter arrivare alle strategie e all'operatività bisogna partire dall'ABC. La seconda si chiama mobilitazione. Quando tutti siamo allo stesso livello, a quel punto si può pensare di muoversi, mobilitarsi, verso che cosa? Verso il marketing internazionale. E allora marketing diventa marketing internazionale, economia internazionale diventa scambio internazionale, arrivano organizzazioni, project management, ricerche di mercato e pesa un altro 40%. La terza parte, il 20% è l'accelerazione. E lì entrano in scena lancio di nuovi prodotti, tutto il mondo dei due media, che negli ultimi anni è arrivato a coprire 65 ore su 400. Quindi un'importanza che non è solo legata alla comunicazione, perché per esempio, anche nella parte di marketing internazionale, c'è il marketing internazionale nel mondo web. Anche nella parte di... allineamento, ci sono dieci ore già di web marketing. Perché? Perché abbiamo notato che qualsiasi topologia di azienda, sia nel B2C che nel B2B, quindi chi si occupa di biscotti piuttosto che di tondino, oggi ha una grande attenzione al mondo dei social. E chiedono persone che vadano in stage già con un'idea di come funzionano il mondo dei social, piuttosto che la creazione di un sito, piuttosto che il content marketing e così via. Quindi questa è la parte introduttiva. Tre momenti. Si parte tutti insieme. Allineamento. Mobilitazione. Si ci sposta da marketing a marketing internazionale. E accelerazione, quello che io amo definire, i temi di frontiera, cioè le cose più nuove. Secondo, ci sono vari tipi di docenti. Chi ha un professore incardinato in università, quindi in ruolo? Ci sono esperti consulenti d'azienda. Per esempio, i mondi della comunicazione, la pubblicità tradizionale e la pubblicità web è gestita da docenti che operano in quel settore avendo agenzie pubblicitarie tradizionali piuttosto che web. Lo stesso vale per le ricerche di mercato. Ok, l'aspetto teorico, ma l'aspetto pragmatico con cui si definisce il questionario, l'intervista individuale, qualitativa, quantitativa o focus group, è gestita da chi la fa tutti i giorni. Il terzo tipo di docente, un po' di più verso la parte finale del corso, è legato a figure professionali. Direttori commerciali, direttori generali, direttori marketing, direttori marketing internazionale e manager, imprenditori, che vengono a raccontarci il loro modo di vedere il marketing dall'azienda. Sono testimonianze che nella norma avvengono, come ho spiegato, nella seconda parte del corso. Quindi mi fermo su questa prima parte e passo la parola a Erika, se vuole aggiungere a questa parte qualche cosa, mentre aspettiamo le nostre testimonial. Allora, aggiungo solo rapidamente che questi sono, quelli che vedete, sono gli insegnamenti del corso, quindi dieci, e la didattica frontale propone sia attività individuali che attività in team, quindi lavori di gruppo. Nelle tre fasi raccontate appunto dal direttore ci saranno tre diverse formazioni, quindi tre diversi momenti in cui gli studenti saranno divisi in squadre, in gruppi, e potranno lavorare sia durante l'esercitazione in aula che in vista di esami, verifiche di profitto. Ci sono appunto dieci insegnamenti e ogni insegnamento ha all'interno delle parti, dei percorsi che poi sono talvolta oggetto d'esame. All'inizio dell'anno diamo le indicazioni rispetto all'andamento, al calendario degli esami, anche in modo indicativo, senza avere magari subito tutte le date precise, però dando indicazioni sui momenti salienti, perché al termine di ogni piccola parte di ciascun insegnamento ci sono solitamente esami, esami scritti a crocette, oppure magari esami orali, oppure proposte di attività in gruppo che vengono poi valutate. Per gli studenti lavoratori ci sono delle attestazioni di presenza all'esame che si possono portare all'ufficio del personale, in modo da poter avere il tempo di studiare per l'esame, in modo anche da potersi presentare. Ecco, questo può essere magari utile per qualcuno. Molto utile Erika, e voglio tranquillizzare chi viene da scienze umanistiche, lettere, filosofia, piuttosto che mediazione culturale. State tranquilli che in queste ore ci sono solo sei ore che tiene la professoressa Cattaneo legate all'analisi dei costi e al controllo di gestione, perché è importante sapere come si creano questi costi, come si gestiscono, ma non vi voglio spaventare, non ci saranno esami di statistica, esami di contabilità, proprio perché non interessa il marketing. Poi, quelli che vorranno approfondire, se nella vostra carriera crescerete, crescerete, è logico che un'idea degli economics è molto importante. Quindi noi ne la daremo in sei ore con la professoressa Cattaneo. E l'altra cosa a cui ci tenevo dire, noi abbiamo gli ultimi due master, il master 15 iniziato in presenza e finito a distanza per il Covid, il master 16 iniziato a distanza per il Covid e finito in presenza. La nostra idea, come dice il nostro rettore, siamo un'università tradizionale e non online, abbiamo usato lo strumento online perché è show must go on, ma il nostro obiettivo è, a metà novembre, quando inizieremo a essere in presenza. Dipenderà dalla pandemia. Noi ci apprezziamo duale, per cui in base alla situazione saremo in grado di fare, sia in presenza che a distanza. Oggi non lo sappiamo dire. Già da oggi, già dal primo di settembre, entrare in università comporta avere il Green Pass. Quindi inizio a dirlo perché fa parte, pensate che sanno da quanto tempo io entro, ogni giorno lo devo esibire, per cui è una cosa importante, già da dire. Prego Erika. Grazie mille. Allora, visto che è arrivata appunto Valeria, una studentessa che è iscritta al Master, vedo che c'è anche Desiree. Ecco, insomma, sono arrivate le nostre studentesse di quest'anno che offriranno una testimonianza, insomma, rispetto al loro percorso e qui appunto al Master. Passo la parola a Valeria, seguiamo, come dicevo, l'ordine alfabetico. Grazie, grazie per essere qui a lei, a Desiree. Prego. Grazie. Allora, io mi sono, sono di Assisi innanzitutto, non sono di Bergamo. Mi sono trasferita a Bergamo appunto per frequentare questo Master perché mi piaceva molto il programma che offriva, anche il fatto che fosse metà in inglese e l'altra metà in italiano. E era anche, il professor Cavallone mi aveva assicurato, insomma, che era adatto anche per me che avevo fatto lingue, perché appunto sono laureata in lingue e mi sono trovata molto bene. Ho seguito, cioè, con facilità, diciamo, abbastanza, poi anche durante i lavori di gruppo che abbiamo fatto, ci siamo aiutati a vicenda, magari con gente che aveva un background più di economia, chi invece è più su scienze della comunicazione. Ecco, abbiamo, è un Master dove si fa molto lavoro di gruppo e squadra e quindi si riesce a seguire molto bene. E poi, che altro? Ho iniziato, grazie sempre a questo Master, un tirocinio presso un'agenzia di marketing, dove poi alla fine attualmente mi hanno prolungato, diciamo, lavoro come collaboratrice nel reparto Export, quindi ci occupiamo di fiere oppure di organizzare incontri tra aziende italiane e estere, quindi mi è utile sia il background delle lingue, ma anche questo del marketing, ecco, e sicuramente so molte più cose che all'inizio, perché di marketing appunto non sapevo nulla, e poi ecco, ho avuto questa opportunità che altrimenti non avrei avuto, ecco. E tutto qua, ecco, non so se devo aggiungere altro, però ecco sì, mi sono trovata va bene in generale. Grazie, Valeria. Desiree. Ok, tu com'è? Buonasera, sono Desiree, Io ho vissuto nove anni a Cambridge in Quilterra e sono tornata appunto per il Master, questo Master con l'attenzione al Project Management, come diceva Valeria, faccio eco, in quanto tutti i lavori di gruppo ci hanno proprio allenati a gestire i rapporti con i colleghi e anche aiutarci come team e anche capire le differenze e quindi supplire dove c'erano magari debolezze. Consiglierei il Master a tutti che vogliono avere una base di marketing qualora non l'avessero, come è successo per molti noi colleghi. Ho trovato questo Master online, ho guardato il piano di studi, avevo anche guardato quello di altri competitor, se vogliamo dire, ma Project Management fatto e anche il programma pubblicato sul sito. Ero convinto in quanto c'erano vari punti che mi davano una situazione a 360 gradi di quella che è l'offerta di SDM, quindi eccomi qua iscritta e adesso vediamo insomma la fine. Anch'io come Valeria ho imparato molto e sicuramente il ritmo incalzante ci ha aiutato e non è una cosa da sottovalutare e neanche così scusate. Il mio studio è un'attività che mi ha aiutato e quindi sono molto soddisfatta, i professori sono stati tutti molto disponibili e i workshop oltretutto extracurricolari li consiglio, in quanto mi hanno dato magari spunti e chiavi di lettura diversi che prima non potevo magari avere o cogliere. Quindi se avete domande siamo qua. Grazie Desiree, spettacolo. Grazie Valeria, ottimo. Ecco Valeria appunto sei neolaureata, eri neolaureata quando poi ti sei iscritta al master. Desiree non è neolaureata, aveva un'esperienza lavorativa e si è iscritta al master appunto integrando le sue competenze precedenti e appunto proseguendo poi nel lavoro con ovviamente una posizione diversa rispetto magari a chi è neolaureato e parte poi dopo il master. Infatti la composizione e anche le provenienze degli studenti sono diverse, ci sono gli studenti neolaureati, ci sono studenti invece che lavorano o che hanno lavorato e vogliono valorizzare, potenziare delle competenze e hanno occasione di farlo. Sul discorso che ha proposto Desiree per quanto riguarda le attività di gruppo veramente ha toccato degli aspetti molto importanti. I ritmi incalzanti in generale, il saper lavorare con gli altri e quindi anche appunto valorizzarsi a vicenda, interagire, confrontarsi, vedere di trovare un terreno comune per fare bene un lavoro e portarlo a termine. Questo è significativo perché appunto tutto il master durante il corso insomma ci saranno diverse, come dicevo, formazioni a giro e si lavorerà in gruppo perché è un'attività diciamo complementare a quella individuale e di arricchimento reciproco. Questo è quello che ovviamente auspichiamo. Quindi grazie delle vostre testimonianze. Oltretutto sia Valeria che Desiree si sono catapultate a Bergamo perché prima erano appunto Valeria D'Assisi e addirittura Desiree a Cambridge. Quindi insomma la loro esperienza è anche un po' significativa per questo. cioè si sono spostate letteralmente tra le difficoltà del Covid e quindi insomma complimenti e grazie ancora di queste testimonianze. Grazie mille. Grazie. Recap. Io dico due cose se non è arrivato qualche altro ospite. Vedete che cosa vuol dire? Ritmi incalzanti. È vero, io lo dico sempre tutti. il Master è pesante, è impegnativo perché avete 14 ore di lezione alla settimana lunedì, mercoledì e venerdì 5 e mezzo, 8 e mezzo sabato mattina. Parte in punta di piedi ci si conosce partiamo con le materie basic ma ha un crescendo rossignano nel senso che ci sono tante materie che entrano e poi ci sono i lavori di gruppo e poi ci sono gli stage e poi i field project e così via per cui è molto impegnativo. Quello che si porta a casa è altrettanto e lo stesso vale per gli esami qualche piccola precisazione, vedete, la diversità che c'è fra un corso di laurea triennale, magistrale e il Master è che qui non scegli l'appello di marketing o di economia, io lo faccio a marzo, io lo faccio a giugno, lo si fa tutti insieme come una squadra uniti, perché? Perché per poter andare avanti nel corso che è diviso a moduli bisogna avere colmato e completato queste competenze e quindi non è che dico va bene marketing non ho tempo di studiare lo farò a marzo, no perché a marzo c'è già marketing internazionale, quindi questa è la cosa diversa, poi una persona può essere assente, può essere malata e lo recupero ma l'esame è una data tutti quanti insieme, nella norma una settimana dieci giorni dopo che è terminato il modulo. Seconda cosa l'ha detto sia Desiree che Valeria il gruppo cambierete gruppo tre volte nelle tre fasi allineamento, mobilizzazione e accelerazione con l'obiettivo di lavorare con diversi colleghi questo è un preview di quello che vi capiterà per i successivi 42 anni lavorativi cioè lavorare con le persone e quando si dice marketing management management da manus agere gestire bisogna imparare a gestire le relazioni con i propri colleghi c'è chi è più simpatico c'è chi è meno simpatico c'è chi ha dell'affinità c'è chi non le ha ecco bisogna imparare a lavorare con tutti perché nel mondo del lavoro sarà così infatti la prima regola che io do al master è tratta il tuo compagno di gruppo e di corso come il tuo capo è vero che ha la tua età ma il tuo capo non puoi mandarlo a quel paese quindi la base è il rispetto imparare a lavorare con gli altri è fondamentale perché creerete la vostra start up abbiamo messo nove ore sull'imprenditorialità col professor Minola e va benissimo a un certo punto dovrai avere dei colleghi e per avere dei colleghi dovrai imparare a managerialmente cioè dovrai imparare a gestirli la terza mia recommendation quello che è l'obiettivo del direttore e di tutti i docenti è alla fine del corso mettere nella condizione persone di sapere cosa è il marketing saperlo fare trovare un lavoro nel marketing questo è il nostro obiettivo ok cioè la competenza permettetemi io vi auguro di prendere tutti i 30 e di uscire con 110 lode il voto è secondario all'apprendimento ripeto il voto 23 25 27 29 è secondario all'apprendimento non rifiuto il 24 in marketing perché voglio prendere 28 non si può rifiutare non si può rifiutare il voto il voto è ik et nunc quello di quel giorno perché tutti insieme avete fatto quel percorso e tutti insieme fate l'esame ma io ho avuto meno tempo e ho avuto più tempo è così per tutti proprio perché è una catena e noi dobbiamo tenere nell'ingranaggio legato tutte le persone del corso cosa hai imparato cosa vuoi approfondire bene avrai modo di approfondirlo perché sono le cose che interessano di più c'è chi ama di più l'aspetto della comunicazione chi è quello del project management avete sentito chi è quello dell'innovazione lancio il prodotto chi è quello della ricerca ma il concetto è il voto viene dopo prima c'è il tuo apprendimento ricordatevi che quando vi faranno un colloquio di selezione non vi chiederanno che voto hai preso in business english lo capiranno da come parlate non vi chiederanno quanto hai preso tu in storia della pubblicità o in comunicazione tradizionale non ve lo chiedono vedono che sapete la differenza tra un copyright e un art director piuttosto che un layout e un brief e così via perché la gente guarda a quello che uno sa fare ecco perché nel master c'è lo stash le aziende che ospitano alcune le troviamo noi fanno parte ormai di vent'anni di relazione e alcune le trovano i candidati sempre benvenuti sono aziende che abbiamo selezionato in cui nessuno ti dirà fai le fotocopie e portami un caffè ed è per questo che noi chiediamo ai nostri corsisti di pazientare e di iniziare lo stagio a marzo perché così fatto novembre dicembre gennaio febbraio marzo hai finito tutta la prima parte sai che cos'è il marketing in generale sei già vicino al marketing internazionale hai già dei rudimenti diciamo così di web e sei pronto per andare in azienda a dare un contributo come ha detto Valeria al di là delle 400 ore tante aziende ti dicono fai 600 ore fai 6 mesi fai 8 mesi e poi magari c'è una sostituzione di maternità o un'altra opportunità a me piace definire lo stage come un colloquio di selezione che dura 400 ore non è un colloquio che dura mezz'ora 400 ore ti valutano ti studiano ti mettono la prova capiscono e quando sei valido e hanno l'opportunità non ti lasciano scappare passo la parola Erika è arrivato Carlo per caso sì esatto nel frattempo benvenuto Carlo grazie buonasera a tutti grazie allora vi passo la parola al dottor Carlo Pedrali che è un partner del master da tanti anni come partner di una società di comunicazione web marketing lui si presenterà e lo ringrazio anche per la flessibilità perché le ho chiesto oggi riesci a dirmi 5 minuti che cosa fai che così sentono anche un docente della materia più 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 in del nostro master prego Carlo ok eccoci ecco scusate la camera la videocamera ma in realtà sono in movimento quindi anche la comunicazione spero che non sia un problema sì io sono Carlo Pedrali dell'agenzia NT Next quindi l'agenzia di Bergamo che in realtà si occupa di comunicazione strategica o di strategie di comunicazione oltre ambiti di innovazione tecnologica all'interno del master abbiamo un modulo complessivo di circa 40 ore che viene poi diviso tra vari collaboratori all'interno del quale vengono sviluppate tematiche della comunicazione del design e della strategia o meglio dalla strategia al design alla comunicazione quindi l'approccio più strategico Carlo vai e viene toccando alcune tematiche diciamo sì la comunicazione va e viene purtroppo ok ora meglio sì ci proviamo parlando di comunicazione purtroppo abbiamo queste problematiche tecniche dicevo quindi un modulo che una prima parte che accompagna la storia della comunicazione e la sua evoluzione un ambito più focalizzato sull'aspetto del design e quindi dove si entra in merito alle tematiche di user experience di design di human center design e quindi tematiche più che si avvicinano più all'esperienza e quindi all'esperienza del consumatore così come all'esperienza della comunicazione stessa e un ultimo modulo è legato alla parte più tecnologica quindi che è quello che poi seguo io innovation technology IoT quindi tematiche se vogliamo dove la tecnologia diventa supporto dello strumento e del touch point di comunicazione il nostro modulo tendenzialmente ha un approccio anche molto pratico nel senso che oltre alla teoria viene anche vengono anche fatte diverse attività di gruppo e quindi di progettualità una parte infatti del come dire del voto viene data proprio sul progetto sulla presentazione del progetto e una serie di case history reali che condividiamo proprio nella logica di entrare in relazione con argomentazioni concrete vere non solo teoriche ma di progetti non solo immaginati ma anche realizzati e quindi una condivisione di quelle che sono le strategie le modalità le attitudini gli approcci diciamo operativi di project management i budget e quindi anche l'aspetto economico dello sviluppo progettuale come diceva il professor Cavallone l'intento è anche quello di portare grazie all'esperienza reale che viviamo tutti i giorni un contributo di professionalità e di lavoro dal campo quindi sul campo cioè quindi c'è molta condivisione di quelle che sono le problematiche le dinamiche operative pratiche di tutti i giorni ovviamente all'interno di questo percorso quando si parla di comunicazione la comunicazione è molto ampia quindi tocchiamo la comunicazione tra virgolette più tradizionale dalla campagna di comunicazione al spot televisivo fino a tutto questo abbiamo delle difficoltà a seguirti adesso Carlo abbiamo delle difficoltà mi sa che l'abbiamo perso ok è in trasferta e forse ha avuto qualche eccomi spero che mi è ritornata la linea spero mi abbia per la maggior parte ero arrivato alla fine in realtà quindi dicevo anche la parte digitale ovviamente è un ambito assolutamente importante della componente del nostro intervento noi tendenzialmente arriviamo verso la fine del percorso stavi spiegando la praticità quindi la concretezza ok scusate si dicevo quindi l'aspetto importante che cerchiamo di dare è proprio quello di portare l'esperienza reale dal campo quindi non solo fermarci sugli aspetti teorici ma assolutamente portare l'esperienza vera e cercare di trasferire il più possibile nel tempo a disposizione qualcosa che vi possa dare un contatto con la realtà ma soprattutto degli strumenti operativi come diceva anche il professor Cavallone da mettere in atto anche nel breve all'inferno degli stage che state facendo o delle prossime attività lavorative insomma questo è un po' l'idea grazie mille professore il microfono grazie mille Carlo è tutto molto chiaro ci sono stati dei momenti in cui ti abbiamo sentito un po' a singhiozzo però il percorso che hai tracciato è molto chiaro grazie mille e buon viaggio e buona continuazione a presto ciao Carlo grazie mille arrivederci grazie grazie bene Erika c'è qualche informazione importante da dare e poi chiediamo se hanno delle domande sì allora io volevo magari spendere un paio di minuti per definire la differenza tra stage e field project che è interessante perché appunto lo stage come è stato detto è un momento importantissimo del corso ha una durata come dicevamo di 400 ore e questo appunto è lo stage curriculare che dovrebbe teoricamente iniziare almeno dal mese di marzo in modo che si possano avere le competenze per poter per potersi orientare in azienda diciamo e lo stage curriculare solitamente è dedicato agli studenti che non lavorano che magari sono neolaureati o comunque che non hanno un lavoro oppure agli studenti che lavorano e che decidono hanno la possibilità comunque di fare lo stage all'interno della propria azienda e in questo secondo caso il progetto formativo del tirocino è proprio specifico legato al master e lo studente lavoratore che fa lo stage nella propria azienda deve svolgere attività durante lo stage completamente diverse mansioni diverse rispetto a quelle che svolge solitamente gli studenti lavoratori che invece non fanno lo stage in azienda si occupano appunto del field project il field project è un lavoro in team quindi non individuale ma in team in gruppo che viene commissionato da un'azienda e che è coordinato dal direttore del corso quindi è un progetto sul campo tradotto così proprio letteralmente per cui gli studenti sono chiamati a valorizzare a potenziare delle attività per un'azienda che appunto fa questa richiesta e ha ovviamente il field project ha lo stesso peso e valore dello stage curriculare semplicemente non c'è un registro con le ore come invece per chi fa lo stage però il peso specifico è sempre quello ha il valore di 400 ore e viene gestito dagli studenti che lavorano che diciamo con delle scadenze presentano lo stato delle attività fino a poi a chiudere il progetto che viene consegnato all'azienda e poi anche alla classe comunque quindi questa è la differenza principale di questi due momenti del corso molto importanti volevo dare magari se d'accordo professore un paio di indicazioni rispetto ai requisiti per il corso e quindi poi ricordare un po' le prossime tappe dell'iscrizione perfetto dunque come requisiti avrete magari avuto già modo di vedere bisogna avere appunto per poter accedere al master il requisito fondamentale è il diploma universitario una laurea quadriennale o comunque annale vecchio ordinamento una laurea triennale del nuovo ordinamento specialistica o magistrale questo appunto quindi di base almeno avere una laurea triennale comunque per poter accedere al corso sono ammessi anche i laureandi che però conseguono il titolo entro due mesi dall'avvio del master per quest'anno e quindi entro il 15 gennaio 2022 sono riconosciuti i titoli accademici esteri quindi poi l'ufficio SDM la segreteria valuta i titoli esteri in vista appunto della missione valutati i requisiti poi viene come vi spiegherò poi pubblicato dopo le prescrizioni infatti un elenco degli ammessi perché la segreteria SDM considera requisiti di ammissione e quindi poi pubblica l'elenco dei candidati che sono idonei e il master è aperto anche agli uditori che sono magari possessori di diploma di scuola superiore come è scritto qui che magari appunto lavorano e non vogliono sostenere gli esami non vogliono fare il tirocinio e possono però seguire il corso una parola sugli uditori so che sto parlando magari a tutti i laureati o laureandi ne abbiamo avuti pochi nella nostra storia ma la differenza è che hai un costo del 20% più basso si frequenta si partecipa a tutte le attività ma non si fanno gli esami in questo modo uno attiene alla fine un attestato di frequenza che ha il valore di dire ho frequentato ma non hai il valore del hai fatto l'esame quindi abbiamo la dimostrazione che tu queste cose le imparate ma vi dico quest'anno abbiamo un'uditrice russa che è laureata in fisica e in economia e che si è iscritta perché era molto interessata al marketing al progetto management abbiamo avuto un imprenditore che ha detto a me non interessa il pezzo di carta mi interessa conoscere il marketing e poi metterlo in atto nella mia azienda chiederei da Erika di dire magari qualche data io dico due cose sui numeri di solito noi abbiamo classi che vanno tra i 20 e i 22 allievi il nostro minimo è stato 13 il nostro massimo è stato 28 ma la media è 20 22 24 che ci permette di seguire tutti Erika in modo particolare nella ricerca verifica dello stage sottoscritto per quanto riguarda il field project e c'è un'iterazione relazionale coerente prima avevamo un limite a 40 persone l'abbiamo spostato 30 perché a noi piace gestire le cose il più one to one possibile prego date allora eccoci qui in questa slide sono riassunte un po' le tappe per l'iscrizione e questi termini li ritrovate anche all'interno del bando che è pubblicato sul sito e sulla pagina insomma dedicata al master sul sito della SDM allora per la presentazione delle domande di iscrizione abbiamo come termine il 4 ottobre segue la l'iscrizione la pubblicazione dell'elenco degli ammessi come vi dicevo prima appunto la segreteria che raccoglie le domande di iscrizione valuta i requisiti dei candidati una volta pubblicato l'elenco degli ammessi gli interessati hanno tempo dall'11 al 15 di ottobre per perfezionare l'iscrizione immatricolandosi ed effettuando contestualmente il pagamento quindi la quota di partecipazione al master se appunto poi si raggiunge un numero minimo di iscritti come di fatto è sempre avvenuto il master inizia appunto il 15 novembre 2021 vedete come poco dall'11 al 15 ottobre perché l'elenco degli ammessi è l'elenco di tutte le persone che ha presentato domanda e pagato il 30 euro 50 euro poi invece ci sono quattro giorni per dire io pago i 5.900 euro allora se voi avete questa disponibilità economica personale o familiare tranquilli scenderà il MAV e pagherete se pensate come capita di dover ricorrere un finanziamento noi per tanti anni abbiamo lavorato con una banca Ubi che adesso è stata acquisita da San Paolo per cui sono ancora in fase di definizione delle convenzioni per cui sentitevi liberi sin da ora di andare alla vostra banca e chiedere il miglior preventivo oppure di fare tre preventivi con tre banche o cinque in modo che quando voi avete la certezza in quattro giorni questi vi diano il denaro e possano pagare l'importo perché purtroppo il concetto è che la definizione dei paganti definisce l'inizio si ma guarda che mi hanno dato il finanziamento non ho mandato che me lo danno noi ci crediamo ma purtroppo l'amministrazione dice quando noi vediamo i soldi scaricati sul conto dell'università iniziamo è brutto da dirsi 5.900 euro sono tanti se fossero 500 euro al mese sarebbe diverso ma sono tanti per cui portatevi avanti se avete già deciso non dite fatevi dare i soldi portatevi avanti con la richiesta in modo che quando vedete che è tutto posto si schiaccia un bottone e l'accredito sul vostro conto di conseguenza voi pagate col MAF esatto quindi il consiglio appunto è informarsi e a proposito di informazioni credo abbiate ricevuto comunque il messaggio sugli aspetti economici riferiti al master vi ricordo brevemente qui il master è un master universitario quindi la quota che si versa è considerata appunto una tassa universitaria a tutti gli effetti e quindi consente di recuperare un appunto un 19% del totale nella dichiarazione dei redditi con la dichiarazione dei redditi quindi nel 2022 ci sarà un rimborso pari a 1121 euro insomma il master costa 4781 euro quello vero che uno paga se poi pensate di fare un finanziamento tre anni o quattro anni vedete che la rata è attorno ai 100-150 euro al mese ma queste sono cose legate al finanziamento come spiegava bene Erika scusi che sono entrato di forza anzi grazie mille se volete vabbè poi volevo dare anche un paio di indicazioni a proposito di date allora ci sarà un altro open day 22 settembre sempre alle 18 sempre su Microsoft Teams c'è appunto modo di iscriversi così come vi siete iscritti per questo open day potrete iscrivervi anche per quello del 22 settembre e inoltre riceverete in quanto appunto siete nella list di master marketing indicazioni rispetto alle lezioni aperte la prossima in programma lunedì 20 settembre quello che vedete appunto l'orario sarà dedicata all'innovation con il professore ingegnere Kashmit sempre su Microsoft Teams ci saranno anche altre occasioni altre lezioni aperte perché un po' come l'open day anche le lezioni aperte consentono a chi è interessato al corso di avvicinarsi alle attività e scoprire qualcosa in più perfetto Erika bravissimo grazie now it's up to you chi vuole aprire il microfono e fare la prima domanda non tutti insieme non vediamo il viso però sappiamo che c'è Sara Veronica Laura don't be shy non siate timidi o siamo stati chiarissimi prego si sente che siamo in Cagnana intanto vi faccio vedere sono nel mio ufficio in Cagnana il corso lo faremo qui dal mio ufficio si vede anche Città Alta e adesso ci hanno dato una comunicazione interna alle sette chiude dell'università perché mentre non ci sono master che vengono gestiti invece che terminare alle otto e mezza si termina alle diciannove ma abbiamo tutto il tempo per rispondere alle vostre domande ah ecco Sara bene dice ma il leggo nella chat non è vero ma lo stagio lo trovate voi dobbiamo trovarlo noi ah bella domanda Sara allora come ho anticipato prima lo stagio noi abbiamo una banca data aziende e queste aziende come detto prima sono filtrate noi cerchiamo con Erika di fare un'analisi dei desiderata capire il settore capire l'ambiente più marketing più comunicazione più project management e in base a quello che la richiesta delle aziende noi proponiamo non è che dice io voglio andare da coin perché mi sono interessato all'abbigliamento e risiedo vicino a Mestre quindi voglio andare da loro noi non possiamo lavorare così anche perché la nostra competenza è Bergamo e provincia qualche contatto su Milano pochi qualche contatto su Brescia pochi ok Valeria che è di Assisi è venuta a Bergamo e nelle nostre relazioni conosciamo il mercato bergamasco va molto bene che la gente si proponga dice guardi mentre io aspettavo ho fatto delle domande in azienda e in queste domande aziende mi hanno chiesto ti prendiamo come stas spettacolo aspetta a iniziare fino che il master non inizi perché così puoi iniziare da subito perché se uno vuole iniziare il 16 di novembre lo può fare con un progetto formativo che studiamo prima e noi siamo molto contenti quando capita che uno per motivi diversi non riesce a trovare uno stage è logico che lì noi ci adoperiamo un po' di più ma con sincerità che credo sia etico nei vostri confronti avere vi diciamo questo è quello che noi abbiamo trovato non è che dice no ma io volevo lavorare nell'estetica io volevo lavorare nell'abbigliamento è vero abbiamo cercato ma se abbiamo trovato settori diversi questo è quello che è perché perché l'obiettivo sono le 400 ore che sono esperienza che sono trasformare la conoscenza in competenza ed è un pezzo di strada che si fa con questa azienda e come mi piace dire l'esperienza è come il maiale non butti via nulla hai lavorato nel settore dei tubi hai imparato delle cose nel settore della diagnostica hai imparato delle cose nel settore della chimica fine altre nel settore della farmaceutica all'interno che ne so gli analgesici hai imparato delle cose e poi uno troverà la propria vocazione quando deciderà dove andare a lavorare altre domande ah ok Veronica Veronica mi dice io faccio questo master perché voglio lavorare nel marketing ma il master mi troverà un posto di lavoro bella domanda Veronica allora non è che iscrivendosi e pagando i 5.900 euro guadagnate un posto di lavoro no pagate una tasca universitaria per acquisire delle competenze teoriche e pratiche poi l'entrata nel mondo del lavoro dipende da tanti fattori uno per esempio noi sappiamo che quando un'azienda prende una persona in stage ci dice Erika io devo assumere Erika io ho un contratto progetto Erika io ho un bisogno di 6 mesi ma non ho nulla da garantire per cui lo si sa all'inizio abbiamo aziende che ti fanno partire con 400 ore e poi diventano 600 e poi diventano 6 mesi l'esempio di Valeria non è automatico mi iscrivo o trovo il lavoro non è automatico mi iscrivo apprendo studio imparo e poi mi metto sul mercato del lavoro ecco se voi ci chiedete qual è la percentuale delle persone che hanno un lavoro dopo un anno avendo frequentato il nostro master è più vicino al 100% che al 95% ok ma questo lo so perché sono statistiche ma io non posso garantire altra cosa c'è chi durante il master trova un lavoro e c'è chi lo cambia ecco anche lì se stai cambiando lavoro e vai in una nuova azienda questi signori vorranno a te al massimo sappi che dovrai dosare le energie porta a casa il tuo master e porta a casa il nuovo lavoro altre domande vere buonasera sono Sara quella della prima domanda grazie vi ringrazio innanzitutto della presentazione molto chiara che avete fatto la mia domanda forse è un po' specifica però appunto ho preso iniziativa e la pongo lo stesso mi chiedevo appunto se nella fase immagino di accelerazione quella che dovrebbe essere un po' la summa e l'approfondimento di questo master se si vedranno dei software diciamo tecnici scusate per l'analisi dei dati o comunque o la SEO che siano keyword surfer o la diciamo la plancia di guru analytics ecco mi chiedevo questo prego vada Erika se posso rispondere sì questi strumenti vengono approfonditi da due docenti diverse però ecco essendo strumenti Google analytics per l'analisi dei dati senz'altro e per quanto riguarda le tecniche SEO quelle sono come dire in continuo di venire quindi diciamo il senso all'interno del corso che riguarda questi aspetti questi strumenti dare diciamo una base generale che vi consenta poi di continuare nel tempo ad aggiornarvi per affinare la tecnica ecco comunque si tratta di strumenti che vedrete che avrete modo di vedere perfetto grazie grazie mille dell'intervento l'altro specifico che uno sarà più sul market internazionale e l'altro sarà più sulla comunicazione così si vedono le due angolature di analytics e grazie per la domanda Sara altre domande abbiamo ancora 5 minuti prima che l'università chiuda posso fare una domanda ma abbiamo siamo gemellati con dei master e come sono cioè qual è la storia dei gemellaggi bella domanda grazie Erika abbiamo due gemellaggi il primo è con il master di Gissen Tecnici Hogeskule Mittelesen di Gissen vicino a Francoforte ogni anno loro vengono tre giorni da noi e noi organizziamo nel giovedì venerdì e sabato keynote speaker che vengono a parlare di temi recenti facciamo visite aziendali una o due tutti insieme con un pullman e facciamo un seminario con 4 o 5 relatori di vari settori e il sabato facciamo un business game italiani e tedeschi insieme tutti contro tutti e concludiamo con una cena siamo anche gemellati col master GMC Global Management China che qui vedete quando siamo andati a trovarli a Venezia e qui vedete quando siamo andati a trovarli all'Istao d'Ancona è un master per persone che sono laureate in cinese e specifico per loro ma noi siamo partner da diversi anni quest'anno loro si spostano a Napoli perché è un master itinerante dovevano venire a Bergamo ci sono state purtroppo tutte le possibilità di farle venire e quindi o noi andiamo da loro o loro vengono da noi ed è un'altra esperienza molto interessante perché in quel caso per esempio noi sappiamo un po' più di marketing loro sono un po' più di cinese facciamo gruppi misdi GMC e MMI e per esempio proviamo a lanciare in Cina col web dei prodotti italiani quindi pensate tutto il lavoro di inventare il nome tradurre in cinese capire il significato della cultura pensate solo che in Cina tutta la pasta barilla ha dovuto cambiare la confezione perché il cinese non compra ciò che non vede per cui aprimano le confezioni di cartone della barilla perché devono vedere com'è la pasta e lo spaghetto quindi tutti aspetti culturali e cross-culturali di un interesse veramente alto grazie Erika per la domanda allora la domanda finale la faccio io dico ma quello che vi abbiamo presentato questa sera ci chiudono dentro è quello che state cercando? allora io vi dico fateci ancora una pensata ma se è quello che state pensando scrivete a Erika scrivete a me chiamateci facciamo una chiacchierata un incontro via Skype fugate ogni dubbio perché ci sono poco meno di quattro settimane per decidere e per poi organizzarci dal punto di vista economico e organizzativo interno e partire e io mi auguro che sia così e come ha scritto Erika noi vi aspettiamo grazie tanto per essere stati con noi qualsiasi cosa mauro.cavallone chiocciola unibg.it oppure mastermarketing chiocciola unibg.it buona serata buona serata a tutti grazie grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti